Perché votare il Movimento 5 Stelle il 25 settembre? Intanto, proprio perché abbiamo parlato di temi fattivi, di cose fatte, voglio ricordare una cosa di cui sono particolarmente orgogliosa. Uno dei sette hub nazionali dedicato alle politiche giovanili sarà aperto a Nuoro, sarà aperto in Sardegna, con dei fondi che sono del Ministero delle Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio. In un contesto che sta subendo spopolamento, al più alto tasso di dispersione scolastica, penso che sia un risultato importante, sia un segnale anche di possibilità per quei ragazzi che escono dalle scuole superiori, che vanno magari in un ITS, che poi si devono affacciare al lavoro con la giusta cultura di impresa. Il rito di cittadinanza è una misura che, lo dice l'Istat, non il Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, ha salvato durante la pandemia un milione di persone. I percettori di reddito in Sardegna sono 76 mila persone per 39 mila famiglie. Io credo che dobbiamo combattere gli abusi, questo lo diciamo tutti, ma non si toglie una pensione di invalidità, non si toglie la pensione per i ciechi perché ci sono degli abusi. Gli strumenti che servono per combattere la povertà, per combattere la fragilità, devono essere mantenuti, soprattutto in una situazione di crisi come questa, che non ha precedenti, in cui onestamente il tasso di povertà sta salendo e soprattutto stanno salendo i lavoratori poveri, cioè coloro che lavorano ma non riescono pur lavorando ad arrivare a fine mese. Grazie.